Musica Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. Dunque ci siamo, oggi parte la fase 2, oltre 4 milioni di persone tornano al lavoro e quindi sarà un po' questa settimana la prova del 9. Intanto per vedere se funzionano le regole che sono state messe a punto, soprattutto per quanto riguarda, lo sappiamo, il delicatissimo settore dei trasporti e poi naturalmente le aziende che devono rispettare i protocolli di sicurezza che sono stati messi a punto. I dati sono confortanti perché continuano a rallentare i contagi giornalieri, continuano a diminuire anche se sono comunque ancora alti naturalmente i decessi e poi è sempre minore la pressione sulle terapie intensive e sugli ospedali in generale per quanto riguarda i ricoveri. Adesso la parola d'ordine è senso di responsabilità. Le regole sono state date per quanto possibile. C'è in realtà un po' di confusione, alcuni passaggi non sono stati propriamente chiariti, però si cercherà di portare avanti al meglio, soprattutto anche con l'aiuto delle forze dell'ordine che hanno ricevuto una direttiva dal Viminale. Il Viminale ha praticamente comunicato ai prefetti di controllare soprattutto la questione che riguarda gli assembramenti e poi di valutare caso per caso. E poi naturalmente ci sono i rapporti con le regioni, perché lo sappiamo che alcune regioni, in particolare la Carabia, ha cercato di fare un passo più lungo rispetto a quelle che erano le direttive del Governo. Ci sono delle tensioni, vedremo adesso nel dettaglio a che punto è la situazione. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Vedete l'ora della responsabilità è il titolo che ci racconta appunto qual è in questo momento l'elemento più importante. Appello di Conte, tornano al lavoro 4,4 milioni di italiani vittime. Il dato più basso da quasi due mesi. Oggi c'è un'intervista a Bonomi, il Presidente della Confindustria, che dice che i prestiti non bastano, il Governo si muove, perché naturalmente quella che è più pressante è la questione dell'emergenza economica. Ancora il virus partì nel laboratorio di Wuhan. C'è questo affondo da parte degli Stati Uniti che tornano ad accusare nuovamente Pechino, che naturalmente nega qualsiasi tipo di responsabilità in questo senso. A centro pagina vedete le regole, appunto il nodo quello più controverso. Che cosa cambia per gli spostamenti? Fuga verso il sud, perché il Governo nell'ultimo DPCM ha detto che si può tornare adesso al proprio domicilio e quindi insomma treni e autobus e pullman sono stati presi d'assalto. Addirittura insomma c'è il tutto esaurito per diversi giorni. I fidanzati sì, ma gli amici, i ministri divisi sui congiunti. Questa parola di cui si è sentito tanto parlare negli ultimi giorni. E poi c'è Boris Johnson che è guarito. I medici erano pronti ad annunciare la mia morte, racconta appunto la sua esperienza ed è pronto però per cercare di rimettere in piedi il Paese ancora in grande difficoltà, dobbiamo dire. Siamo alla Repubblica. Se il virus torna, chiudiamo dal lavoro e trasporti. Oggi l'Italia comincia a riaprire. La task force scientifica del Governo avvisa pronti ad una marcia indietro. Appello di Conte, servono responsabilità e senso civico. Le prossime tre settimane saranno decisive per il futuro del Premier. Via i test per 150.000 ma non garantiscono l'immunità. Sono i famosi test sierologici. E poi ancora volevo farvi vedere in taglio alto gli Stati Uniti che puntano il dito contro i laboratori di Wuhan Pompeo che accusa la Cina colpevole dell'epidemia. Andiamo ancora a vedere l'apertura della stampa. Eccola qui c'è un'intervista oggi al Ministro dell'Interno Lamorgese. Ecco le regole per ripartire. Mi appello alla responsabilità dei cittadini. Vedete questa parola che torna in continuazione per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento. Da questa mattina cominciano a riaprire le fabbriche e le università. Si possono incontrare i congiunti, fare sport e andare al parco. Oggi c'è un'intervista all'ex Premier Letta con un monito. Il nostro futuro si gioca adesso. E poi ancora ci sono delle regioni in cui il lockdown ha portato dei risultati molto positivi e altri invece che sono indietro in realtà. Una di queste è il Piemonte che teme il rimbalzo dei contagi cui il Covid-19 è in ritardo di sette giorni. E quindi c'è una comprensibile preoccupazione. Ancora sempre dalla stampa. Oggi c'è un'intervista al segretario della difesa americano Mark Esper che dice Cina e Russia usano il virus per condizionare l'Italia. E quindi appunto fa il punto su questa questione. Andiamo a vedere anche l'apertura del messaggero. Eccola qui. L'Italia alla prova. Conte convivenza con il virus più senso civico. E il governo impugna l'ordinanza della Calabria. Ricordiamo che appunto la governatrice della Calabria Iole Santelli ha disposto che bar e ristoranti possano utilizzare i tavolini all'aperto. Cosa appunto che non è assolutamente prevista dalle direttive del governo. Da oggi 4,4 milioni al lavoro. Il Viminale. Niente assembramenti. Visite. I fidanzati. Come i congiunti. Quindi questo aspetto è stato chiarito. Ancora abbiamo imparato tanto ma non lo sprechiamo. Dall'amor di patria. Il bisogno di competenza. L'eredità e gli errori in agguato. Quindi bisogna fare molta attenzione. A non fare passi falsi come dicono gli esperti. Il decreto da 55 miliardi. Il famoso decreto di aprile. Che è diventato giocoforza decreto di maggio. Aiuto alle imprese. E reddito scontro sulla maxi manovra. Poi c'è un'intervista a Patuelli. Presidente dell'ABI. Che dice grandi opere per far ripartire il paese. Ancora i tamponi di massa e terapie intensive. Chi va fuori dai parametri richiude. Parte la raccolta dei dati sui contagi regionali. Bene. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. E riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio. Proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del sole 24 ore. Il fatto e scusate il quotidiano economico. Che ci parla del 7.30 precompilato a due tempi. Domani via online. Scadenza spostata al 30 settembre. Ma conviene accelerare per avere i rimborsi già a luglio per i dipendenti. Ad agosto per i pensionati. Probabile record di dichiarazioni. E poi ancora rifiuti. Tari sospese in tre città su quattro. Ma è caos sugli sconti. Andiamo a vedere anche l'apertura del giornale. Eccola qui. Riaprono anche le tasse. Il governo prende ancora in giro gli imprenditori. Niente crediti e sconti. Mancano i soldi per la cassa integrazione. Berlusconi serve un patto fiscale per ripartire. Apertura di Libero. Eccola qua. Finalmente buone notizie. Titola Libero. Il virus a giugno sarà morto. Matteo Bassetti. Il direttore di malattie infettive a Genova. Dice la popolazione è terrorizzata. Ma i numeri diffusi dall'esecutivo sono sovrastimati. Ancora andiamo a vedere l'apertura. Eccola qui del tempo. Non funzionano le misure del governo. 80 miliardi di euro buttati via. Alla vigilia del secondo decreto. Si scopre il fallimento degli altri. Il 90% dei soldi per assistenza. Con il reddito d'emergenza non si salvano posti di lavoro. E fra due mesi manco più quello. E invece serve aiutare le imprese a non fallire e a reinventarsi. Contributi dati soltanto all'Italia. Andiamo a vedere anche l'apertura del fatto quotidiano. Eccola qui perché l'abbiamo prima saltato. Da oggi fase 2. Migliaia pronti a partire. Ma in Calabria mancano i tamponi. Nord e sud esodo da paura. Si teme un nuovo rialzo dei contagiati. Il governo impugna. L'ordinanza della Santelli. E poi il pranzo proibito. A casa del consigliere della De Micheli. L'uomo di Zinga. Multato con lite. Andiamo a vedere anche l'apertura della verità. Eccola qui. Per ora il più forte è Conte. Parla Giuseppe. Il paese va. Maggioranza solida e con le regioni è tutto ok. Ma la realtà lo smentisce. Ancora confusione, rivolte e scontri istituzionali. La Ghisleri. Gli italiani feriti dall'ex avvocato del popolo. Duro documento dei magistrati. Il governo viola i diritti costituzionali. Andiamo a vedere anche l'apertura del mattino. Eccola qui. Che naturalmente parla della fase 2. Fate piano il titolo principale. Controlli flessibili. Ma non sprecate tutti i sacrifici. E poi De Luca. Campania blindata. Verifichiamo anche chi affitta le auto. Andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani. Eccole qui. E partiamo dall'intervista che abbiamo visto nella prima pagina della stampa. Al ministro dell'interno Luciano Alamorgese. È una fase delicata. Serve più sicurezza. Controlli milati. Anti-assembramenti. L'emergenza non è finita. Autocertificazione utile. Dice la Alamorgese. Leggiamo una parte di questa intervista per avere qualche dettaglio di più. I controlli, dice la Alamorgese, hanno il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica. L'indicazione del ministero è che le verifiche dovranno essere svolte con equilibrio tenendo conto delle singole situazioni. Per questo si dovrà far rispettare in modo rigoroso il divieto di assembramento garantendo il necessario distanziamento tra le persone. E l'adozione di tutte le cautele anche attraverso le misure di protezione individuale previste. Si dovrà tenere conto inoltre dell'impatto che i controlli possono avere sulla vita quotidiana delle persone. Come d'altronde sta dimostrando ogni giorno tutto il personale impiegato nei controlli sul territorio. Si parla poi della famosa autodichiarazione. E la Alamorgese dice che è uno strumento che tutela anche in questa seconda fase dell'emergenza sanitaria lo stesso cittadino sottoposto a controllo. Serve tra l'altro a dichiarare che non si sta violando la quarantena. Per questo non deve essere vissuta come un inutile adempimento burocratico. Comunque per velocizzare le procedure coloro che vanno a lavorare potranno giustificare lo spostamento esibendo la documentazione fornita dal datore di lavoro. Questo appunto per accelerare i controlli. E poi le viene fatta una domanda sulle prospettive per i prossimi mesi, soprattutto per l'estate. Dice potremmo andare in vacanza. Dipende da noi e dai nostri comportamenti. Dobbiamo rimanere estremamente vigili e responsabili in questa delicatissima fase. Purtroppo l'emergenza non è finita ma se continuiamo a rispettare le regole in maniera ordinata possiamo immaginare di riacquistare gradualmente nuovi spazi di movimento. E mi auguro un po' di serenità e di fiducia per il futuro. E su quello appunto, sulle prospettive, su questa seconda fase vi segnalo un'altra intervista che troviamo questa mattina sulla Repubblica a Walter Ricciardi che è il consigliere per emergenza del Ministero della Salute che dice non è finita, se i contagi salgono tra due settimane dovremo richiudere. Siamo ancora in bilico. Il Paese resta un sorvegliato speciale. E appunto leggiamo anche qui una parte dell'intervista. Da oggi si riaprono alcune attività ma già da qualche giorno in molte città si vedono tante persone in giro a passeggiare. È rischioso? Sì, risponde Ricciardi. Le situazioni che abbassano il distanziamento fisico o mettono a rischio la salute di tutti. Ma voglio ricordare che come si è aperto si può anche richiudere. Per farlo abbiamo degli indicatori che ci permettono di prendere misure correttive. Nel caso di un ritorno dell'epidemia le chiusure, se le cose vanno male, avvengono automaticamente. Quindi non è ancora il momento di stare tranquilli. Gli viene chiesto restiamo in una fase rischiosa. Anzi, certe regioni sono ancora in piena fase 1, dice Ricciardi. Quindi riapriamo quello che va riaperto. Come dice il piano, in modo graduale e funzionale le esigenze del Paese. Per il resto bisogna restare ancora a casa. E quanto ci vorrà per capire come vanno le cose? Gli viene chiesto due settimane il tempo dell'incubazione, ma anche dello sviluppo dei primi casi secondari. In questi 15 giorni si vedrà se la malattia torna a diffondersi in modo esponenziale. E dunque queste due settimane, come ci dice in questa intervista che troviamo su Repubblica, Walter Ricciardi saranno fondamentali per capire come andranno le cose. E ci si regolerà in base ad alcuni indicatori. Andiamo sul Corriere della Sera, dove c'è appunto l'appello di Conte alla responsabilità. Ora sta a noi decidere se vogliamo evitare dolorosi dietro fronte. Il capo del Governo finora dà le restrizioni i buoni risultati. Da oggi però saremo chiamati ad un surplus di attenzione. Più che su decreti e su ordinanze puntiamo sull'autotutela. Ed è proprio un appello che il Premier fa ai cittadini. La ripartenza è nelle nostre mani, dice tocca a noi decidere se vogliamo che sia risolutiva e definitiva, se vogliamo evitare dolorosi passi indietro. Adesso più che mai servono collaborazione, senso di responsabilità rispetto delle regole da parte di tutti. Non è una fase meno complessa di quella che si sta chiudendo, ma finora la risposta della popolazione è stata molto efficace e confido che continui ad esserlo. Allora andiamo a vedere rapidamente un'altra intervista che troviamo sui quotidiani di oggi. Siamo sempre sul Corriere della Sera, ve lo volevo segnalare al presidente designato di Confindustria Bonomi che dice che i soldi a pioggia finiscono presto in autunno, rischio collasso sociale. E appunto sottolinea in questa intervista lo Stato paghi i suoi debiti, sblocchi le opere pubbliche già finanziate e defiscalizzi gli aumenti di stipendio. Queste appunto alcune delle sue indicazioni per questa ripartenza. Sicuramente molto difficile dal punto di vista economico. La fase 2, le regole, se ne è parlato tanto, si è cercato di fare chiarezza, addio all'autocertificazione per lavoro, passeggiate sport sul modulo, non si deve indicare il nome di chi si va a trovare. Il limite comincia il momento più delicato dall'inizio della pandemia, i limiti e le cauteli restano ma vengono allentati molti divieti, per recarsi in ufficio basterà, abbiamo visto esibire la lettera dell'azienda o il testerino, si potrà rientrare al proprio domicilio anche fuori regione, ma dopo sarà proibito tornare indietro. Nei negozi sarà sempre obbligatorio indossare la mascherina, restano chiuse al pubblico bar e ristoranti, ma è consentito oltre alla consegna a domicilio anche il cibo d'asporto, è aperto i parchi, l'attività a motore è consentita, purché a distanza di due metri. Ovviamente un po' tutti i giornali fanno il punto della situazione sulle nuove regole. Poi c'è la questione dei congiunti, una parola che è stata ricorrente in questi ultimi giorni, allora visite sia ai fidanzati, no agli amici, il chiarimento del Viminale non elimina tutti i dubbi, Bellanova li include nell'elenco. Nell'autocertificazione non sarà comunque necessario indicare il nome della persona che si va a trovare, come ci racconta appunto questo articolo del Corriere della Sera. Ma sempre dal Corriere della Sera vi vuole segnalare quest'altro focus, la fuga al sud, tutto pieno sui pochi treni aerei, migliaia diretti nel mezzogiorno, controllo della febbre e isolamento, le regioni si preparano ai rientri. Perché? Perché oggi, in virtù dell'ultimo decreso del Presidente del Consiglio dei Ministri, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, spostandosi anche da una regione all'altra. Finisce dunque il lockdown, ma in una circolare inviata alle prefetture, Viminare ieri ha chiarito che una volta che si è fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento da una regione all'altra, ossia le comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza e i motivi di salute. Però sicuramente si sposteranno diverse persone in queste ore e per questo sarà necessario mantenere alta l'allerta. Allora, diamo un attimo un'occhiata alle questioni che riguardano i test sierologici, perché c'è anche qui un po' di confusione. Ognuno fa da sé, ma non sono patenti di immunità. Da oggi c'è il via all'indagine su 150.000 italiani, è un'indagine che è condotta dalle istituzioni e che serve per fare un'indagine epidemiologica. Le regioni, dal canto loro, ne comprano 2 milioni. I prezzi che sono dai 25 ai 50 euro per quanto riguarda i privati, perché c'è anche la possibilità di poterli fare nei laboratori privati, ma c'è chi punta a sbaragliare il mercato con kit a meno di 2 euro e nei laboratori scatta la corsa alle prenotazioni. Questi esami sono tre e sono molto diversi, di questi principali test. Intanto ci sono i tamponi, che ormai conosciamo, che vanno a caccia del virus, i sierologici e i cosiddetti kit veloci, che invece si concentrano entrambi sulla risposta immunitaria dell'organismo per sapere se è entrato in contatto con il virus. In realtà però in questo articolo ci dice che i test più affidabili sono non tanto i kit veloci, quanto quelli che prevedono il prelievo del sangue per avere una situazione più chiara. Ancora volevo farvi vedere, appunto tamponi, siamo su un messaggero, contagio e terapie intensive, chi va fuori dai parametri, richiude, queste sono le indicazioni, e poi i dati che sono confortanti, almeno per ora, contagio e morti, i dati più bassi dal 10 di marzo, in un giorno 1.389 nuovi casi, 174 i decessi, i numeri sono ancora alti per quanto riguarda i decessi, ma comunque lasciano ben sperare. Bene, è tutto per la rassegna stampa, e diamo il buongiorno a Paolo Sottocorona. Grazie Manuela, buongiorno. L'immagine di oggi richiede un commento, molte volte vi ho ricordato che il tempo stabile non significa sempre cielo sereno e pochissime nuvole, specialmente d'inverno, ma siamo in primavera, anche abbastanza inoltrata ormai, e quindi questa è una situazione di tempo stabile, con pochissime nuvole. Vediamo, siamo in zona di alta pressione ovviamente, vediamo nella prima parte della giornata di oggi questa prevalenza di cielo sereno, certo, per esempio in Calabria, in qualche zona alpina o prealpina, sono indicate le debolissime piogge, però tenete conto che questo calcolo è fino alle 14, quindi già si potrebbe formare qualche nuvola verso l'ora di pranzo. Certo, non vi aspettate piogge, però questi piccoli rischi. Vediamo nella seconda parte della giornata di oggi, vedete che nel pomeriggio non si sviluppa granché, anzi addirittura scompare la possibilità di qualche debole piogge in Calabria, quindi tempo decisamente stabile, tutta la giornata di domani nelle 24 ore più nuvole, questo sì, non tanto all'estremo sud quanto al centro, al nord, il grigio di qualche nuvola, e le precipitazioni quasi del tutto ristrette nelle zone alpine e localmente prealpine, ma sono sempre piogge in prevalenza deboli. Vediamo anche la giornata di mercoledì, perché questo prelude a un leggero cambiamento, insomma non cambia molto, però mercoledì queste piogge deboli o localmente moderate che attraversano il nord, vedete, in senso orizzontale, poi lungo l'Appennino la possibilità di piogge, e questo si prolunga anche sulle zone della Puglia, quindi anche in pianura. Sono piogge che localmente potrebbero essere moderate, ma insomma non ci dobbiamo attendere molto, sappiamo comunque che la siccità è un altro problema, l'acqua, la pioggia manca, ma insomma le quantità non saranno poi particolarmente significative. Le temperature di questa mattina sono molto vicine a quelle di ieri, insomma non ci sono grandi cambiamenti, in qualche caso non proprio altissime, insomma siamo pressoché nella media, lo stato dei mari, situazione anche questa relativamente tranquilla, perché con l'alta pressione c'è poco vento, e quindi anche i mari sono tranquilli, quelli settentrionali, quelli centrali, soltanto lo ionio e il basso adriatico potrebbero essere mossi o localmente molto mossi. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale per la quale ritorna Emanuela Garulli e vi ricordo come sempre, se volete e se potete, un aiuto per chi combatte contro il coronavirus. Grazie.